mi è venuta un'idea geniale ok, almeno spiegati noi metteremo questa mela sopra la tomba non ho capito, vuoi lasciare la mela lì? esatto, e quando torneremo se c'è qualcuno, morderà la mela se non c'è nessuno, la troveremo intatta ma sai che sei un genio? non ci avevo pensato lasciamo la nostra mela qui e noi ce ne andiamo ciao mela, mi mancherai Vito, via libera Manu, ma sei sicuro che non c'è nessuno? ahi il piede che ridi? ci dobbiamo avvicinare con cautela hai capito? secondo me la mela sarà divorata ma io spero di no è che è un leone che si divora la mela andiamo a vedere aspettami non ti muovere da solo non farei rumore perché? ci sono le piantine di margherite le piantine di margherite? sì e perché dovrei fare silenzio per le margherite? le margherite sono mie amiche e tu non devi assolutamente pestarle scusi scusi dottor Manu mi perdoni attento e dai andiamo però scusi margheritina adesso però c'è un grande problema certo immagino abbiamo la brace la tomba ce ne sono tanti di problemi no questi sono problemini e scusa e qual è il vero problema? devo fare pipì subito ma guardalo guardalo mi fai venire un colpo devi fare pipì questo è il grande problema vai a fare pipì vai vai e dove? non c'è un gabinetto vuoi che ti costruisco un bagno? o che ti porto in un albergo a 5 stelle? vai a fare pipì dietro un albero e se qualcuno mi vede io mi vergogno ma chi ti deve vedere qui? che non c'è un'anima viva? le formiche? le margheritine? anche delle formiche mi vergogno vai a fare pipì vai vai vediamo se devo perdere questo tempo però sbrigati ma guarda un po' certo però quando chiama la pipì è difficile resistere ma però nel trattempo potrei impiegare meglio questo tempo cercare indizi sondare un po' il terreno scusatemi sono veramente sbadato non vi ho nemmeno salutato ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video insieme al vostro vichingo preferito alias Vito Bella Vita e finalmente eccoci giunti al giorno del giudizio oggi finalmente conosceremo la verità vedremo cosa si nasconde all'interno di questa tomba vedremo se c'è qualcuno qualcosa che si nasconde dietro questo grande mistero ovviamente se non volete perdere le nostre avventure cosa dovete fare? ricordatevi di spolliciare qui sotto come i vichinghi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i nostri stupenderimi video Vito finito di fare il pipì mi sento più leggero eh certo quanti litri di pipì hai fatto? almeno 4 o 5 litri che schifo ma cosa hai? un bidoncino al posto della vescica ho bevuto tanto succo di frutta ok mano tu darai un'occhiata a tutta questa zona mentre io darò un'occhiata a questa mi raccomando cerca qualsiasi indizio qualsiasi cosa potrebbe esserci un'arma del delitto potrebbe esserci qualcosa delle tracce non lo so apri bene gli occhi e soprattutto le orecchie mi raccomando devi essere un segugio e qualsiasi cosa urla e io corro in tuo soccorso ok capo mi do subito da fare io nel frattempo darò un'occhiata qui qui nei dintorni il terreno è molto roccioso qui c'è una bottiglia di plastica i soliti rifiuti lasciati dall'uomo mentre qui guardate un po' incredibile anche questo pezzo sembra un pezzo della croce ma in realtà il tipo di legno utilizzato è molto diverso questo è molto più pesante e inoltre non ci sono chiodi quindi è un pezzo di albero tagliato e basta ragazzi ho questa telecamera e non so dove cercare ciao vita che stai facendo con la mia telecamera sto cercando indichi dammi la telecamera cerca anziché giocare con con la mia telecamera ma qui non c'è niente sono tutte erbacce cercare un indizio qui è come cercare un ago in un pagliaio ci serve qualcosa un indizio un segno qualcosa che ci aiuti a capire ehi Pino dacci una mano tu sei sempre stato qui potresti almeno consigliarci qualcosa Pino c'è giù Pino qui hai trovato qualcosa si guarda qui guarda ma non ci posso credere aspetta un attimo è un altro guanto se non ricordo male da questa parte dovrebbe esserci l'altro eccolo qui no ma questa cosa è troppo strana ci sono due guanti pensavo ce ne fosse soltanto uno il mistero si infittisce questa potrebbe essere un'opera di un assassino che stai facendo mi difendo onda energetica ma non c'è nessuno qui per il trasporto ziu 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 perché 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 la vuoi smettere di scherzare non vuoi capire che qui siamo in grande pericolo e non lo capisce dobbiamo essere concentrati adesso tu e io andremo dritti verso quella tomba e vedremo se la mela è stata toccata da qualcuno soltanto in quel caso capiremo se c'è qualcosa che non va sei tu che hai perso tempo a cercare indichi io volevo subito andare là adesso dai la colpa a me sì perché è stata tutta colpa tua è sempre colpa tua anche quando è colpa mia è colpa tua se è colpa di alessio è colpa tua se è colpa del mondo è colpa mia ma perché sempre colpa tua ti chiami vito sì sei re dei vichinghi sì allora è colpa tua perché il re si prende sempre la colpa questa cosa l'avete inventata voi perché non è vero in passato non era così secondo te giulio cesare si prendeva la colpa di tutti no ma qual è il passato tu devi guardare il futuro guardalo pure filosofo pure filosofo ce l'abbiamo aspettami almeno ahia che ho preso una pietra nel piede piano 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 ti ho detto guarda la mano sì eccola lì quella lì è la nostra mela piano piano mano mi raccomando perché se c'è qualcuno possiamo correre un grande pericolo piano mano più piano di cose non posso fare incredibile la mela è intatta questa è una buona notizia significa che non c'è nessuno è tutto uno scherzo non c'è nessuno qui sì finalmente abbiamo scoperto il mistero non c'è nessuno qui avete visto ragazzi la mela è intatta questo significa che era frutto della nostra immaginazione dei nostri cattivi pensieri vai possiamo tornare qui senza alcun pericolo quanto è bello essere sereni ma quale tomba sono soltanto pietre una sull'altra niente di che sì evviva ora posso anche mangiare la mela aspetta aspetta era mia quella mela ce l'ho io in mano ma che vuol dire la stavo mangiando io prima della tua brillante idea è mia no mano per favore ce la dividiamo no dai dammi la mela ahia stavo pure cascando per terra dammi la mela è mia no la mela l'ho portata io inoltre ti ho anche proposto di dividere a metà e tu non hai voluto e adesso me la mangio da solo piango se non me la dai non mi interessa piangigli c'è pure l'albero mano che c'è smettila ok visto che mano vuoi anche io la mela no da solo me la mangio comunque la cosa bella è che qua non c'è nessuno possiamo stare tranquilli finalmente mano dammi il pugnetto dobbiamo anche avvertire alessio e lo dobbiamo far tornare qui perché quello è ancora sotto shock adesso gli facciamo una bella videochiamata con la mela gialla che a lui piace eh già dimenticavo la mela chi è stato? era qui l'avevo lasciata qui ti prego dimmi chi sei stato tu ma cosa dici? secondo me sei stato tu io sono stato tutto il tempo con te e poi non ho un morso così grande è vero hai ragione sembra un morso di coccodrillo guarda qui quanto è grande Manu secondo me è meglio se ce la diamo a gambe era un albero era soltanto un albero Manu aspettami è stato un grande piacere ci abbiamo provato ma io qui un piede non lo metto più sì esatto forse è meglio non tornare più qui io vado ci rivediamo al prossimo video ciao wow